Musica Ciao a tutti ragazzi, sono Lollo Oggi è il compleanno di Paul, non è uscito più lo speciale 2000 iscritti, ma sono qui per fare gli auguri a Paul, quindi buon compleanno a lui Via la musica, è già troppo quello che abbiamo sentito, quindi facciamo gli auguri a Paul di buon compleanno Lo speciale tranquilli uscirà ai 2000 iscritti, stiamo organizzando bene questo speciale Soprattutto sarà uno speciale importante E poi fra poco inizierà la nostra stagione diciamo calcistica perché il Potenza incomincerà a giocare Da domenica con il Matera in Coppa Italia e partiamo subito con la reaction Quindi adesso lascio la parola agli altri componenti dello staff Paul e Lollo per fare gli auguri a Paul E ci si ribecca in un prossimo video, ciao a tutti Eccomi, sono il regista, oggi è la tua festa a Paul, auguri di buon compleanno Tantissimi auguri, buon compleanno a Paul per i suoi 16 anni Tanti tanti auguri, è nulla, quindi buon compleanno a Paul e ciao Ciao